Allora la scenetta ambientata in? Messico! Abbiamo detto chi la fa? Bernie, Andrea e Pino, i tre messicani! Amigos, amigos, jugamos, jugamos, a quien jugamos? Jugamos, voleibol, come se juega Voleibol con 12 persone, 6 a un lato e 6 al lato, ma noi siamo in 3, dormimos, dormimos! Amigos, amigos, jugamos, jugamos, a que jugamos? Fútbol, calcio! Calcio? E come se pega a calcio? Se juega con 22 jugadores, 11 di un lato e 11 del lato, 22? Ma noi siamo in 3, dormimos, dormimos! Amigos, 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 jugamos, a que jugamos? Jugamos, a que jugamos? Golf? 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 Come se juega golf? Sì, sì! Un palo, una pelota e un buco! Faccio! Un palo, una palina! Io il palo ce l'ho! Io la pelota ce l'ho! Joeイ Pooch! Non, perlice, perlice! Grazie.